Ben ritrovati a tutti, il mio saluto generale quest'anno fortunatamente e speriamo che sia così per tutto l'anno ripartiamo e ripartiamo con le lezioni e le lezioni le facciamo in sede quindi come si dice finalmente abbiamo la possibilità e l'opportunità di lavorare tutti insieme quest'anno come negli anni passati abbiamo guardato, riveduto magari alcuni progetti, alcune situazioni legate all'idea che possiamo avere di offerta di vari corsi ne offriamo tanti a partire dal mese di ottobre, voi potete collegarvi con il nostro sito così potete valutare e leggere bene tutto ciò che può interessarvi e incuriosirvi i corsi sono parecchi, si svolgeranno durante tutto l'anno ci sono dei corsi base, dei corsi anche un pochino invece più per abilità, un pochino più conquistate non spaventatevi perché tutto si impara, basta aver la voglia di farlo il mio è un invito a tutte le persone che sentono l'urgenza, il bisogno di cimentarsi in una espressione artistica nel nostro caso è un'espressione legata al disegno, alla pittura, alla fotografia, alle arti visive in genere c'è anche scultura, insomma abbiamo sicuramente pensato a un'offerta abbastanza completa e questo mi auguro che possa essere gradito da tutti voi vi aspettiamo, potete iscrivervi quando volete ai corsi che volete grazie e vi aspetto tutti in tanti ciao 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 ciao